Ufficio ricostruzione, avviso per il nuovo titolare. Sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comune dell'Aquila è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse relativa al conferimento dell'incarico di titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, l'USDRA, dopo le dimissioni, come è noto, di Paolo Esposito. Lo reso noto il sindaco Pierluigi Biondi, che ha ricevuto la comunicazione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla ricostruzione postisma 2009 in Abruzzo, l'onorevole Paolo De Micheli. Le domande potranno essere presentate entro il 9 giugno, con le modalità indicate nell'avviso stesso pubblicato ai seguenti link della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet del Comune dell'Aquila.